L'istante è il brivido dell'istante, è lo struggimento dell'istante, in cui nella mia vita ho capito che è diventato carico di significato il fatto dell'esistenza di Dio. Ero in seminario, in primo liceo, e ci facevano la storia della musica, e quella volta toccava alla figura di Donizetti. E il professore ha messo sul giradischi un pezzo della romanza del quarto atto, della favorita. E quando il bravissimo tenore incominciò, spirito gentil dei sogni miei, brillasti un dì ma ti perdei, eccetera. Ma al vibrare della prima nota io ho capito, con struggimento, quello che si chiama Dio, che è il destino inevitabile per cui uno nasce. E' il termine dell'esigenza di felicità, è la felicità di cui il cuore è esigenza insopprimibile. L'io umano, il cuore dell'uomo è esigenza di felicità.